E' una lite molto forte quella che ci sarebbe stata tra Gianlu Maria Sainato ed Elena Prestes. Quest'ultima sembra essere una delle navoli più, diciamo così, non accettate, più discriminate, più insultate di quest'isola dei famosi. E' nato, diciamo, questo alterco perché il modello continuerebbe a insinuare che la storia tra Elena e Carlo sarebbe a suo dire totalmente inventata. L'avrebbe detto in particolare, sei ridicola, tu amo il tuo ex ma hai trovato quel Carlo là con cui ti sei fatta la storiella, finta, soltanto per avere visibilità. Tu e lui sei due attori e tu sei falsa. Elena ovviamente, davanti a quelle pesanti accuse, non c'è stata, ha fatto un saluto con la mano e poi un sorriso. Gian Maria però non si è reso e ha continuato a sostenere la sua tesi, ossia il fatto che la modella vada a mentire e continuerebbe a farlo soltanto per avere voti e avere il pubblico da casa che possa andarlo a sostenere. In afro quindi l'avrebbe detto, tu ti vanti di avere tutti i paparazzi sotto a casa tua, ma chi sei? Kim Kardashian? Elena c'è da dire che sta vivendo momenti drammatici in quest'isola dei famosi perché i più non la considerano, la ignorano, oppure l'etichetta non è falsa e addirittura avvengono ridi forti, piuttosto furibonde, come nel caso di specie. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi al mio canale di Youtube, narratore italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, un caro salatone a voi. Questo video non può eredere la frase di Elena e di Gian Maria Senato, ma solo informare stop. Lascio solo per questo motivo, non per altri motivi.